Onorevole, emozione, passione, lei l'ha già anticipato, ma anche un po' di delusione. Sì, un po' di delusione e anche un po' di amarezza, perché ci aspettavamo un risultato, almeno personalmente, così alto del Movimento 5 Stelle, perché stando tra la gente sentivamo qual era anche il grado di disaffezione nei confronti della politica, di distanza, di anche considerazione della politica come qualcosa di inutile, di dannoso. Non mi aspettavo così poca differenza tra il centro-sinistra e il centro-destra. Mi aspettavo che di fronte alla serietà di Bersani e alla coerenza del suo progetto e, al contrario, alle promesse che troppo spesso non si sono dimostrate vicine ai fatti di Berlusconi, ci fosse una differenza riconosciuta anche degli italiani. Così non è stato e oggi ci troviamo di fronte a questa situazione difficile. 15 marzo, convocazione delle Camere. Lei pigerà il primo bottone. Sì, addirittura in quella prima convocazione non faremo un voto a scrutinio segreto nominale per nominare il Presidente della Camera, nel mio caso. E credo che in quella situazione già il Partito Democratico dimostrerà di essere consapevole del fatto di essere arrivato prima, ma di non aver vinto questa elezione. Quindi chiederemo a tutte le forze, compreso il Movimento 5 Stelle, anzi partendo dal Movimento 5 Stelle, un atto di responsabilità, anche nell'accettare quello che è il dovere, di dover appunto portare avanti la propria esperienza e di essere all'interno delle istituzioni di fronte anche ai carichi di responsabilità, come la Presidenza della Camera.